Sono trascorsi quattro anni da quando la vita di Antonio Cianfrone, vicecomandante della caserma dei Carabinieri di Monsampolo del Tronto, è stata spezzata poiché vittima di un agguato in piena regola. Appena tre mesi fa la sentenza definitiva è emessa dalla Corte di Cassazione che ha confermato per i coniugi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli la pena dell'ergastolo per quell'omicidio. Cianfrone viene ucciso la mattina del 3 giugno 2020 mentre sta facendo jogging lungo la pista ciclabile di Pagliare. Viene raggiunto dal primo colpo di pistola frontalmente, cerca di scappare ma è immediatamente raggiunto da altri tre proiettili sparati alle sue spalle, una vera e propria esecuzione stando alla ricostruzione della procura di Ascoli e dei Carabinieri che hanno indagato sul fatto. Sotto il casco con visiera c'è Giuseppe Spagnulo mentre la moglie Francesca Angiulli è più in là vicino alla moto con la quale la coppia di origini tarantine è giunta sul luogo del delitto non prima di aver fatto una sosta lungo la salaria dove i due vengono inquadrati dalle telecamere. Un caso che ha scosso due comunità, quella della vallata del Tronto e quella del Chietino a Mozzagrogna da cui il vicecomandante proveniva. La famiglia Cianfrone non si è mai arresa per ottenere giustizia. In primo grado la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo solo spagnolo, combinando una pena di 16 anni alla Angiulli, riconoscendole la minima partecipazione all'omicidio premeditato. La procura di Ascoli ha fatto appello contro la sentenza e in secondo grado la corte d'assise d'appello di Ancona ha condannato entrambi all'ergastolo, un verdetto ormai definitivo con il pronunciamento della Cassazione. Il movente è sempre rimasto vago, l'unica certezza è che la coppia spagnolo-Angiulli è risultata colpevole. Grazie. Grazie.